L'Avellino ha abbracciato ieri pomeriggio Marco Armellino, il centrocampista di Vico e Coenzi, ha svolto il suo primo allenamento a Venticano e ha conosciuto Mr. Rastelli e i nuovi compagni. Un vero colpo per la mediana con Armellino che potrà garantire qualità ed esperienza sia come mezzala, suo ruolo naturale, sia come baluardo davanti alla difesa, dando un pizzico di copertura in più rispetto ai play puri come Palmiero e Pezzella. Un centrocampo ricco di risorse per Rastelli che sabato contro il Latina avrà tutti a disposizione, eccezione fatta per Rigione e squalificato per due turni. Armellino che ieri ha svolto regolarmente l'allenamento con il gruppo non ha però nelle gambe il ritmo partita che ritroverà nel giro di un paio di settimane. Va verso la convocazione, Rastelli potrebbe regalargli anche uno scampolo di partita, chiaro che la formazione che i tifosi si aspettano in campo dall'inizio è quella già carpita durante la pre-season, ovvero guidotti tra i pali, cancellotti a destra, tito a sinistra. Nel mezzo Cionec sarà affiancato da Benedetti che pare in vantaggio su Moulet, mentre dall'Oglio Palmiero e D'Angelo comporranno il trio in mediana. Varela sulla tre quarti, la super coppia Marconi-Patierno in attacco. Intanto si continua a lavorare anche fuori dal campo, sono ore calde per coloro che dovranno uscire, ovvero Matera, Rizzo e Casarini che cercano sistemazione. Sul centrocampista pugliese non solo il Cerignola, nelle ultime ore forte la concorrenza della Turris che però dovrà prima sfoltire. Occhio però perché non sembra più così scontata la partenza di Francesco Maisto. Saranno due giorni di grandi valutazioni in questo senso. Oggi intanto si torna al partenio Lombardi, l'impianto viene così riconsegnato all'US Avellino.